Benvenuti in questo nuovo video che sarà poi anche caricato come podcast. Vi volevo parlare dell'argomento di oggi che è il kefir dei grani da latte. Mi presento per chi non mi conosce, sono Sonia Cabiaglia, sono una naturopata, sono attiva sulla piattaforma Enzion, trovate lì molti dei miei contenuti e anche videocorsi, ho un mio canale YouTube e una pagina Instagram, oltre che Facebook, e la pagina Instagram è proprio Sonia Cabiaglia, naturopata. Ho uno studio a Milano da parecchio tempo dove ricevo e lavoro anche molto online. Parliamo adesso di questo argomento che mi sta molto a cuore, che è diventato proprio un rituale mattutino, che preparo con gioia tutti i giorni, per me e per il mio compagno. Il kefir da grani da latte è un probiotico eccezionale, che viene diciamo nato, che nasce proprio dai fermentati dei grani del latte. È un alimento che ho iniziato a introdurre nella mia dieta, nella mia quotidianità, da ormai quasi due mesi, perché ho iniziato a fare un cambio esperienziale di dieta, partendo da una base diciamo vegetariana o pescetariana diciamo, ho iniziato a fare questo percorso di dieta chetogenica. Quindi ho iniziato a cambiare, cioè a introdurre i grassi saturi nella mia dieta, sostituendoli ai carboidrati e agli zuccheri. E mi ha un pochino rivoluzionato diciamo la parte proprio della colazione. Mentre prima facevo colazione con il porridge, con i fiocchi d'avena, e la frutta, il frutta di stagione, molte banane che mi piacevano, mi piacciono ancora tantissimo, e i semi oleosi tipo i semi di lino, a volte alternati con pancake, magari con la farina di cece e tutto, ho iniziato a cambiare completamente la mia dieta, non potendo più introdurre diciamo carboidrati e zuccheri. E introducendo alla mattina il kefir, che poi alla fine a livello di sapore è come un buonissimo yogurt, e il caffè a prova di proiettile, il Bulletproof Coffee, di cui vi parlerò poi in un prossimo video. Allora, il kefir viene fatto proprio con i grani fermentati del latte. Bisogna che qualcuno ve li regali, non andate a comprarli perché non sono i grani che trovate al supermercato. Io personalmente, tra l'altro, visto che li faccio tutti i giorni, ogni totto, ogni dieci giorni, ogni quindici giorni, ho comunque delle porzioni da regalare a qualcuno, se poi magari vi interessa che sia logicamente nelle vicinanze, perché non è che lo posso spedire. I grani da latte di kefir sono questi, ve li faccio vedere. Sono questi, diciamo, dei piccoli cristalli che si formano, spero che nella telecamera si veda bene, io ho due grumi, che continuano a crescere, e sono proprio dei microorganismi, degli animaletti vivi, che si alimentano proprio del latte, e lo fermentano e creano questo yogurt, che poi in realtà è un probiotico eccezionale. Pensate che se lo yogurt ha, diciamo, il 2% di probiotici attivi, che vanno poi, diciamo, a essere dei probiotici buoni all'interno del nostro organismo, e nel nostro intestino, il kefir ha dai 30% in su, invece di probiotici attivi, che vanno, diciamo, a aiutare il nostro organismo. Secondo alcune versioni raggiunge anche il 100%, quindi è proprio eccezionale per la funzionalità del nostro intestino. È un alimento poi comunque rinfrescante, rilassante, così come fanno tutti, diciamo, i latticini, ed è ricco di vitamine, sali minerali e proteine. È indicato, che è la domanda subito che viene, che era venuta anche a me, all'inizio, anche per chi ha una, diciamo, sensibilità al lattosio e ai latticini, quindi alla caseina in realtà, perché nella fermentazione si perde il 30% del lattosio, e anche nella digestione all'interno del nostro corpo è come se andasse a produrre, diciamo, quell'enzima che è la lattasi, che permette proprio di scindere il lattosio, che poi è lo zucchero del latte. Quindi diciamo che è ben tollerato da chi non ha una vera allergia al latte. Poi tutto sta nel provare, che tipo di reazione hanno le persone, se lì si gonfia la pancia, ma io che ho sempre avuto una sensibilità, diciamo, ai latticini, e ho evitato di introdurli nel passato nella mia alimentazione, in questa fase di cambiamento di alimentazione, in cui appunto ho tolto gli zuccheri e i carboidrati, ho reintegrato, diciamo, con i grassi anche dei latticini, in maniera, diciamo, meno presente rispetto al passato e questi sono proprio intesi più come probiotici, più che latticini. Quindi ha un effetto, diciamo, sicuramente non dannoso per la salute da questo punto di vista. Poi sta alla persona a giudicare se ha voglia di fare questo esperimento o se passare direttamente al kefir dei grani di acqua, che da questo punto di vista è sempre un fermentato ed è molto più sicuro, anche se non ne parlerò in questo video, magari farò un video futuro, perché è proprio un argomento un po' più diverso. Quindi andiamo a vedere come si fa questo kefir. Bisogna trovare qualcuno che vi dà questi grani di latte. Io per esempio li ho trovati all'inizio, la prima volta, scrivendo su un gruppo Facebook di kefir dicendo che stavo cercando dei grani di latte nella mia zona di Milano e una persona, in un modo eccessionalmente inaspettato, me li ha addirittura portati in un barattolino nella portineria del mio studio, perché quel giorno nell'orario in cui voleva lei io non avevo, ci avevo un appuntamento e invece lei è stata così carina da regalarmeli e dunarmeli direttamente senza quasi neanche farsi vedere. È proprio anche lo spirito con cui bisogna, diciamo, dunare i grani di latte. Io da quando li ho iniziati a utilizzare, che ormai sono quasi un mese e mezzo, due, li ho già dati a cinque persone, quindi veramente si producono mentre tu li stai facendo. Questi grani di latte vengono messi in un contenitore, io uso questa brocca, che lavo una volta alla settimana, proprio per non togliere gli enzimi che magari il mio kefir, che per me è come se fosse un essere vivente, ha bisogno. viene messo il kefir dentro a questa brocca, io di solito ci metto tanto così di latte, il latte deve essere biologico, intero, fresco, e spesso utilizzo il latte fieno, quando lo trovo, che è quello delle mucche di malga, o comunque il latte di montagna. Diciamo che il latte deve essere il più vicino possibile alla natura, anche se in realtà in commercio sono sempre tutti pastorizzati, altrimenti non sarebbero vendibili. Però non bisogna utilizzare un latte parzialmente sclemato, senza lattosio, perché se no il kefir non viene, perché non ha proprio modo di mangiare il suo nutrimento durante la fermentazione. Quindi viene messo il kefir dentro alla brocca, non bisogna, alla brocca o al barattolo, vedete voi dove metterlo, bisogna poi coprirlo con un panno come questo per esempio, che viene, io poi ci metto un elastico per tenerlo fermo, e lo metto in un luogo protetto, proprio nel senso che è un armadio sopra la cucina, dove ha una temperatura che è abbastanza, diciamo non proprio fredda, che è la temperatura più o meno della casa, a volte anche un po' più calda, proprio perché è vicino alla cucina, perché mi è stato detto che se il kefir si conserva invece in frigo, come molte persone fanno, diventa molto acido, invece facendo questo procedimento, rimane poi uno yogurt molto buono. La mattina, perché ci vogliono 24 ore prima che si crei, bisogna appunto, si versa il contenuto di questo liquido all'interno della brocca, e lo si passa con un colino come questo, un colino che deve essere di metallo, nel senso acciaio o plastica, un metallo normale, meglio non utilizzarlo, perché appunto il kefir essendo poroso e sensibile, essendo un alimento vivo, può anche prendere magari dei metalli che noi non vogliamo poi ingerire. Quindi si usa il colino, si usa di solito un cucchiaio di legno, io ho questo piccolino, trovato in un fast food, uno street food orientale, proprio per non utilizzare un cucchiaio di metallo, e lo si passa nel colino, e si separano i grani da questo yogurt che si è creato, il mio è questo qui, l'ho già colato questa mattina, anche se ancora non l'ho bevuto, ed è uno yogurt buonissimo, molto diciamo dolce, perché è proprio la dolcezza del lattosio, liquido, al quale si può consumare direttamente così, poi ci si può aggiungere, non so, dei semi oleosi, della cannella, della frutta oleaginosa, quindi mandorle, anacardi, noci di macadamia, oppure anche della crema di nocciole o crema di mandorle, che sia pura al 100%, un cucchiaio o due cucchiai, che lo rendono ancora più, diciamo, gustoso e buono, logicamente se state facendo una chitogenica, non è che ci si può mettere la varmellata, perché sarebbero poi i zuccheri, e zuccheri della frutta, e va a aiutare moltissimo la nostra funzionalità intestinale. Io ho proprio notato che c'è una migliore regolarità proprio nel mio intestino, grazie a questo, diciamo, a questo rito che tutte le mattine vado a rinnovare. In più, proprio per me sono, è come se fossero degli animaletti vivi, quindi anche quando poi li dono a qualcuno, mi preoccupo anche che la persona riesca a seguirne il, diciamo, tutto l'iter, per fare in modo che continuino a fermentare, continuino a, diciamo, rimanere vivi. Logicamente è un impegno, anche questo, come avere un animale, a cui devi dare un tamagotchi reale, a cui devi dare da mangiare tutti i giorni, e preoccuparti poi anche che venga alimentato. Se poi magari lo filtrate, non lo utilizzate, potete conservare lo yogurt, comunque il kefir creato nel frigo, e consumarlo magari il giorno stesso, o il giorno dopo eventualmente, guardando bene se non sia andato male, se è diventato troppo acido, ma è un alimento che ha bisogno proprio anche di una costante cura, quindi proprio di una, diciamo, ritmicità, una sorta di ritualità che viene fatta tutti i giorni, che è comunque un motivo in più che uno ha anche di prendersi poi personalmente cura della propria salute. Quindi ricapitolando, grani di kefir donati da qualcuno, grani di kefir da latte, ci vogliono 24 ore per fermentare, quindi lo preparate la mattina per la mattina dopo, utilizzate solo latte biologico fresco intero, meglio se di montagna, e diciamo cucchiai di metallo, meglio di legno, colino anche questo di acciaio o di plastica, non di altri metalli che potrebbero, diciamo, lasciare scorrere la, cioè contaminare il kefir, e poi così anche quello di cui noi ci nutriamo, lo mettete in un barattolo, io uso una brocca, la coprite, perché deve essere coperta con un panno, ma deve respirare, altrimenti anche lì viene proprio, la fermentazione non avviene, cioè si separa, viene proprio, si separa il liquido, e va a male, perché ho visto delle foto di persone, in un gruppo di kefir che seguo, che raccontavano proprio questo evento, che è successo, ma proprio perché l'hanno tappato, gli hanno lasciato l'aria, che serve anche questo al processo naturale di fermentazione, e basta, se poi avete altre informazioni o bisogno di domande, mi scrivete alla mail che vedete qua, su la mia pagina, che è sonia.cabiagliachiocciolainzion.com, e sarò felice di darvi sia informazioni, che se siete nelle vicinanze della zona di Milano, di potervelo dare anche personalmente. Ci sentiamo presto per un nuovo video, spero che vi sia stato utile.